Ormai è guerra su tutti i fronti tra Francesco Totti e Ilari Blasi. Come è arcinoto, la separazione si sta concludendo nel peggiore dei modi, con gli avvocati schierati da ambo le parti pronti a darsi battaglia in la lotta tra i due ex, però, si sta giocando anche da altre parti. L'ex 10 della Roma, anche questo fatto ormai arcinoto, ha rilasciato un'intervista infuocata al Corriere della Sera. Ilari Blasi continua invece a rispondere indirettamente mai una parola sull'ex marito, ma, pochi giorni fa, in una storia Instagram si è immortalata innanzi a un negozio che vende Rolex per sbeffeggiare chiaramente Totti che sostiene che lei gli abbia fatto sparire una preziosa collezione di orologi. Nelle scorse ore Francesco è passato al contrario. Diversi fan hanno notato che il pupone, di recente, ha tolto il seguì su Instagram a Silvia e Melori Blasi, le sorelle di Ilari. Cancellato il seguì anche Ivan e Tiziano, vale a dire i mariti delle due donne nonché i suoi ec. Non ci si scordi che Silvia Blasi, fino a poco tempo fa, gestiva la comunicazione dell'ex calciatore mentre il cognato lavorava in una delle società di Totti. Le ultime mosse sul web di Francesco confermano una volta di più che la rottura con l'ex moglie ha avuto strascichi che sono andati ben al di là del legame di coppia. Il pupone ha infatti completamente azzerato i rapporti con la famiglia della conduttrice dell'isola dei famosi. Per una porta che si chiude ce n'è una che si apre. L'ex capitano della Roma ora fa coppia con Noemi Bocchi. La donna, di recente, ha festeggiato i 46 anni di Totti, presenziando alla sua festa di compleanno. Presenti anche i figli dal party è inoltre trapelata la prima foto di coppia. Francesco e Noemi, infatti, sono stati più volte paparazzati nei mesi scorsi, ma mai fianco a fianco. Ci ha pensato Diva e Donna a pubblicare il loro primo scatto.